I cinque elementi Etere Portiamo tutta la nostra consapevolezza all'Etere. L'Etere sono le possibilità infinite, potenziale, apertura, esperienze illimitate. Inspiriamo profondamente Etere e sentiamo come questa possibilità infinita si fondono in ogni cellula del nostro corpo. Sentiamo all'espirazione in tutto il nostro essere. Inspiriamo Etere e all'espirare sentiamolo in tutto il nostro essere. Portiamo adesso la nostra consapevolezza verso l'altro elemento, l'aria. L'aria si compone di cambio e movimento, nostra abilità di continuare avanti, la forza della vita che fluisce dentro di noi continuamente e ci mantiene in modo costante di espansione. La parte nostra che non si ferma ne se interrompe. Cerca movimento ed espansione. Inspiriamo aria e sentiamo come quest'aria penetra in ogni angolo del nostro corpo. Quando espiriamo sento tutto il potenziale per realizzare tutti i nostri sogni. Nuovamente, inspiriamo ed espiriamo. Il prossimo elemento, fuoco. Il fuoco manifesta trasformazione. Brucia il passato ed espande il presente. Metabolizzazione e digestione. Cambiare lo vecchio per lo nuovo. Trasformare in cenere ciò che non serve più. Di ogni finale nasce un nuovo inizio. Inspiriamo profondamente fuoco e sentiamo come il potere della trasformazione del fuoco penetra in ogni aspetto della nostra personalità. Pensieri, azioni, nuove preoccupazioni, ricerche. Espiriamo. Nuovamente, inspiriamo e sentiamo il fuoco. Espiriamo. Viaggiamo con la nostra consapevolezza l'elemento acqua. Acqua e sostento. Protezione. Guarigioni. Ci permette di transitare per l'etere in modo fisico con scioltezza e facilità. Il nostro corpo è composto di un 70% di acqua. inspiriamo profondamente acqua e come esseri di acqua siamo in uno stato costante e dinamico di cambiamento ed espiriamo e sentiamo questo stato di protezione fisico, emozionale, materiale e relazioni. inspiriamo e saliamo. Nuovamente sentiamo il dolce fluire dell'acqua lavandoci e pullendoci. per ultimo ci incontriamo con l'elemento terra dolce madre terra la terra è stabilità forma, connessioni, radici inspiriamo e sentiamo come ci stabilizziamo ed espiriamo inspiriamo e sentiamo questa connessione con questa essenza e le nostre radici nuovamente inspiriamo ed espiriamo ed espiriamo nuovamente inspiriamo tutti gli elementi dentro di noi e espiriamo e fuori di noi io sono l'universo